Ciao giovani maghi, come va l'allenamento? Ho saputo che avete avuto una bacchetta, un mantello e più andrete avanti e più avete oggetti magici. E io adesso ho avuto un oggetto magico un po' particolare è il portafoglio del mago. È bellissimo perché praticamente è... Uah! Sì, è un portafoglio da mago. Continuate così e lo avrete anche voi un domani. A presto!